Bellezza, legalità, insomma quando si tratta di questi argomenti l'abbovio c'è sempre. Sì, come ho più volte detto la nostra scuola ha dedicato una macro area del PTOF, della nostra offerta formativa a questa tematica. Oggi sono particolarmente fiera della giornata perché esattamente un anno dopo chiudiamo questo splendido progetto Bellezza e legalità che io come dirigente mi onoro di avervi stato perché ho lavorato con l'associazionismo e con questa tipologia di progetto con i fondi regionali già a Stornarella. Quindi quando mi è stato proposto all'abbovio ovviamente ho preso al volo la bella opportunità. Oggi concludiamo un percorso di un anno perché i ragazzi hanno finito di lavorare a giugno, quindi è durato tutto un anno e abbiamo avuto solo il tempo di raccogliere un attimo il materiale e mettere a punto la nostra rendicontazione per restituire adesso il nostro prodotto e siamo pronti per questo.